Presentato il programma delle visite guidate gratuite dedicate al pittore del Cinquecento Antonio De Sacchis, detto il Pordenone. Il sindaco Alessandro Ciriani illustra le finalità dell'iniziativa. Dopo la pandemia l'amministrazione intende irrobustire e rafforzare l'offerta turistica della città. Le città medie non possono essere comparabili a Venezia, Firenze, alle grandi città d'arte, ma sono luoghi ideali per un turismo morbido, per chi voglia assaporare i nostri gusti, per chi voglia vedere le bellezze che il pordenonese, non solo il capoluogo, può offrire. Per questo abbiamo puntato sulle bellezze di Pordenone, naturalistiche, paesaggistiche, artistiche, sui nostri contenitori culturali, ma anche sul Pordenone, un artista che rappresenta la città. Dopo la grande mostra tutto non si può spegnere semplicemente in un ricordo e quindi il poter visitare i luoghi del Pordenone all'interno della città, unito al resto dell'offerta turistica, è sicuramente un plus, un più, che può contribuire a portare i visitatori in città e anche a dare una mano alla nostra economia. L'assessore Alberto Parigi ci spiega i contenuti. Parliamo di 20 visite guidate che si svolgeranno dal 7 maggio fino a settembre inoltrato, che quindi copriranno sia la rassegna della primavera e sia dell'estate a Pordenone, col filo conduttore della riscoperta delle opere del Pordenone, dei luoghi del Pordenone in città, quindi non solo nei luoghi classici del Duomo, del Museo Ricchieri, ma anche nei quartieri. Questo per due motivi. Uno perché Pordenone ha dei tesori nascosti anche nelle chiese dei quartieri misconosciuti e dall'altro per dare una continuità ideale alla grande mostra del Pordenone che è stata organizzata qualche anno orsone. È anche un'operazione di riscoperta dell'orgoglio, dell'identità, delle radici, della consapevolezza dei pordenonesi riguardo i loro tesori. È anche un modo di promuovere Pordenone utilizzando la leva della cultura, delle visite guidate, degli eventi, dei grandi concerti in un quadro complessivo appunto di promozione della città. La guida turistica Susi Moro ci rivela alcuni dettagli sulle visite. Allora queste visite guidate hanno un po' l'obiettivo di continuare a conoscere, ad approfondire questo grandissimo artista che abbiamo l'onore di avere come concittadino e con queste visite che andranno a esplorare i quartieri, i borghi di Pordenone, con chiese che molti pordenonesi probabilmente nemmeno conoscono. La chiesa di San Dulderico a Villa Nova Vecchia, la chiesa di Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e la chiesa di San Lorenzo a Rora Grande. E attraverso appunto questo cammino, attraverso queste tre chiese, scopriremo davvero un Pordenone che è tutto nostro ma che già anticipa il grande artista che poi viene conosciuto in modo internazionale. È possibile prenotare le visite